Svegliarsi presto è il segreto dei vincenti, quindi anche il mio. E come tutti i vincenti, punto sempre una sveglia di sicurezza. Non faccio in tempo ad alzarmi e finire la colazione, che il telefono comincia a squillare senza darmi tregua. Devo rispondere ad importanti telefonate di lavoro. Le ore della mattina sono per me le più produttive. Ne approfitto infatti per dedicarmi alle mie passioni, scrivere, arrangiare e produrre canzoni. Davanti al pc non c'è stanchezza che tenga. Bene, questa mattina ho dato veramente il massimo. Dopo pranzo, come un guerriero, mi concedo un meritato riposino. Dopo pranzo comincia il mio secondo lavoro, quello di genitore. Educare un figlio significa attenzione, dedizione e pazienza. Fortunatamente sono doti che in tutta modestia so di possedere. Prima di cena posso finalmente staccare il cervello e regalarmi dei momenti di puro ed incontaminato relax. Nulla come l'acqua sa eliminare ogni traccia di tensione, ogni impurità del nostro forsennato vivere. Nell'acqua ritrovo il contatto con me stesso, anche se dura solo il tempo di una doccia bagnata. Che dire? Si chiude una giornata lunga, faticosa, ma proficua. Ripenserò a tutte le cose emozionanti che ho fatto oggi, ma specialmente a tutto quello che avrò da fare domani. Buonanotte!